Per Tom McKinnon che comunque saggiamente sta alla corda, poi c'è William Tanui alla corda anche lui e Tom McKinnon che cerca di ragganciarsi, vediamo il passaggio, incredibile 48-66, Johnny Gray, quindi Everett, quindi athlete of dust Incredibile, potrebbero fare veramente il mondiale perché ha fatto 49-5, 0-5 praticamente Johnny Gray Vediamo che Everett che cerca di ragganciarsi, Everett e Tanui, Tom McKinnon comunque alla corda mantiene il contatto, è distaccato Ancora Johnny Gray, guardate che si piangono la gara, vince gli 800, Everett, vince l'Everett E Everett si ripresenta così come il contatto di uno scatto formidabile, William Tanui in terza posizione Ecco Everett, guardate come smanazza e fa passare ancora una volta Johnny Gray, attenzione al tempo 1-38-39-40-41-42-43-40 al terzo posto da lui e poi Tom McKinnon al quarto posto Grande gara anche di Tom McKinnon, agonisticamente intelligente, ha condotto veramente una grande gara, sta arrivando in forma per lui